Papa Francesco è il Papa della comunicazione, perché lui è comunicativo per natura, comunica con lo sguardo, con le mani, con i gesti e con la parola. È il Papa che per comunicare con un bimbo si lascia succhiare il dito, come farebbe sua madre. Il Papa che accarezza tutti, sempre tra la gente e fuori dal rigido protocollo. Un grande affare per chi deve star di dietro. Tra questi c'è Monsignor Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, ospite alla terza del Vescovo di Castellaneta Claudio Maniago, per parlare ai fedeli della semplicità e della profondità di Papa Francesco. Non è l'uomo del protocollo, dobbiamo saltar giù dalla Papa Mobile oppure rubare qualche gesto importante. Penso ad esempio a Betlemme, non era prevista la sosta, il muro di separazione appunto di Betlemme e per fortuna sulla Papa Mobile c'è sempre un nostro operatore che è riuscito poi a regalare a tutto il mondo quelle straordinarie immagini del Papa in silenzio, in preghiera, mentre con la mano tocca, quasi accarezza questo muro per imprimere su quel muro la benedizione di Dio perché quel muro possa prima o poi sgretolarsi. Fedeli incantati nella parrocchia Santa Croce di La Terza, da questa descrizione inedita di sua santità, il commento del Vescovo Monsignor Maniago. Tutti i suoi gesti, le sue parole, sono tesi a cercare un dialogo, a cercare un incontro e questo è straordinario anche nella capacità di ottenere questo.